L'innovazione per me è qualcosa che aiuta e che è intelligente, che è smart, l'idea, una cosa semplice ma che cambia veramente il contesto, che riesce a risolvere il problema nella maniera più semplice possibile, quella è l'innovazione. Fino a piccino la passione per i robot piuttosto che per le macchine in generale era forte, quindi mi piaceva costruire, mi piaceva vedere le cose con mano e provare, chiaramente con l'età che si aveva, a creare qualcosa. E poi durante il percorso degli studi, soprattutto la fase prima dell'università, quindi le superiori, mi interessava l'elettronica, mi interessavano alcuni aspetti della tecnologia, chiamiamola in generale, informatica, elettronica, eccetera, quindi ho fatto un perito appunto in elettronica. La maturità non è andata benissimo, quindi l'idea era quella di valutare l'opzione di non proseguire gli studi, quando è uscito il voto, quando i professori si sono confronti con i genitori che loro umilmente hanno detto, va bene, non c'è problema, cercheremo un lavoro, da lì, quasi invece per ripicca, mi è venuta l'intenzione, ho proposto quindi a mia madre di scrivere la mia ingegneria, lei quasi scioccata, stava per svenire, ha detto, va bene, proviamo. Diciamo che ingegneria biomedica in sé, come tutta l'altra ingegneria, come tutti gli studi, è stato per un ragazzo che chiaramente non era molto predisposto agli studi, quasi un trauma, perché le prime lezioni erano veramente impegnative e col tempo anche ho capito cosa realmente volevo provare a fare da grande, quindi avvicinarmi non soltanto alla medicina e all'ingegneria, ma spostarmi in un ramo un po' più particolare, quindi la robotica. Ho scelto poi di andare al CERN, ho scelto, oddio, si è palesata questa nuova opportunità. Al termine del percorso, diciamo, del master, quindi in robotica, ho detto proviamoci, non si sa mai e alla fine, alla fine sono stato preso e mi sono avvicinato in un mondo che fino a un mese prima, sei mesi prima, sembrava assolutamente irraggiungibile, quindi è stato particolare, da quasi non sapere più e non avere la convinzione di proseguire gli studi a trovarsi in un contesto del genere, è stata una bella bomba. A valle quindi di questa esperienza al CERN c'è stata la possibilità di fare un'application all'Istituto Italiano di Tecnologia e quindi dopo una selezione sono stato appunto identificato come una parte, un componente del team che aveva lo scopo di realizzare un dispositivo di mano protesica, quindi la mano Hannes. Ecco che quindi da qui ho iniziato con una serie di altri miei colleghi, come chiaramente Junior all'inizio di questi sei anni e mezzo di percorso e col tempo sono cresciuto, adesso mi trovo quasi a gestire il progetto, quindi un bel percorso. L'ITI è un qualcosa veramente di magico, un contesto che soprattutto in una realtà italiana dove non si fa altro che criticare, che tutto non va bene, che tutto si potrebbe fare meglio eccetera, si respira veramente un'aria che è diversa. L'ITI è semplicemente il luogo dell'innovazione, è veramente un posto dove ci sono tante persone, siamo in 1600, 800, 900 soltanto qua a Morigo e chiaramente ognuno lavora al proprio progetto ed è interessante quando invece emergono cose trasversali, quindi lavorando insieme con le proprie competenze su cose completamente diverse, la genomica che si mischia con altre, l'intelligenza artificiale, la robotica che si mischia con le scienze per la vita. Anne è stata concepita per poter essere molto semplice da utilizzare e poter quindi eseguire molte prese, quelle necessarie, indicativamente il 90% Anne le riesce a ricoprire, è una mano che si controlla attraverso due sensori che sono posizionati sulla superficie della parte residua dell'avambraccio e in maniera automatica riesce ad adattarsi alla forma dell'oggetto. Ci sono stati dei momenti in cui chiaramente le cose non funzionavano e non funzionavano come dovevano funzionare. Un problema particolare è appunto la robustezza, il problema che si rompevano i cavi, quindi il fatto che il motore non riuscisse a trasportare la forza opportuna che doveva essere in grado di erogare, quindi la reale forza di presa della mano. Un episodio interessante è stato il fatto di addirittura andare ad appellarsi a un negozio di pesca, siamo andati da un negozio proprio perché non sapevamo proprio quale cavo identificare e una signora che è esperta quanto care, che dobbiamo ringraziare ancora adesso, ci ha suggerito un particolare tipo di cavo che è un tessuto in intrecciato che adesso tuttora abbiamo e che è quello che ha risolto il problema. Sicuramente uno dei momenti più particolari, più sorprendenti che mi ricordo durante questo percorso è stato uno dei nostri pazienti che ha perso un arto a 16 anni, quindi abbastanza giovane e chiaramente adesso ha 50-60 anni e ha messo per la prima volta Hannes e abbiamo notato come naturalmente afferrando la penna ha iniziato a scrivere e lui ci ha fatto notare una cosa che per lui era quasi scontata, aveva la stessa calligrafia di quando a 16 anni aveva perso l'arto. Da una soddisfazione gigante perché appunto vedi chiaramente il frutto del tuo lavoro che può aiutare realmente la persona, quindi è bello. Una qualità che secondo me è importante ed è fondamentale forse per poter raggiungere degli obiettivi è l'umiltà, l'umiltà di pensare di non essere se stessi gli unici fautori diciamo del proprio destino ma lavorare in gruppo, la capacità di voler mettersi a disposizione di un team perché poi i grossi risultati, grosse soddisfazioni si raggiungono proprio grazie a un lavoro coeso di più persone, quindi secondo me quella è una grande dotte che è giusto mettere diciamo a disposizione degli altri e quindi umiltà e voglia di lavorare in collaborazione con altri, quindi in team. Grazie a tutti.